Lo Sport, in collaborazione con Central Car, unica concessionaria Subaru per Alessandria e provincia. Nuovo showroom in via Marengo 151 ad Alessandria. Tutta la gamma Subaru in pronta consegna e assistenza tecnica qualificata. Parliamo di calcio, ottava giornata di campionato di Serie D in infrasettimanale, mentre si sta ancora giocando la partita tra Castellazzo, allenato da Lovisolo e di Borgo Sesia, a Tortona, al Coppilderton, allenato da Calabria, ha incontrato il Vado. È stata una partita spettacolare, finita 5 gol a 1, ma ancora più spettacolare è stata la prova di Draghetti. L'attaccante del Dottona ha messo a segno ben 4 gol per completare la cinquina, poi segnato anche Lazzaro. La giornata di Serie D è reiniziata alle 15, l'Acqui, allenata da Buglio, ha giocato fuori casa contro la squadra Ligure dell'Argentina di Arma di Taggia. L'Acqui è stato sconfitto per 1-0. Allo stadio di Novi Ligure, Girardengo, si è giocato il quasi derby tra la Novese e il Voghiera. L'oltrepovo Voghiera, che aveva rifriato 6 gol al Castellazzo, ma che è comunque reduce da una sconfitta bruciante con il Dottona, ha incontrato il bianco celeste della Novese allenata da Lepore. La partita è finita con un pareggio per 1-1. Il Meteo, in collaborazione con Punto Fuoco Tortona, piastrelle, parchè e arredo bagno, stufe, caldaie e caminetti pellet. Il servizio è il nostro miglior prodotto. Offerta prestagionale, stufe a pellet, compra d'estate per restare al caldo d'inverno. Punto Fuoco di Tortona, metti a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circomballazione Angolo Via Pernigotti. Il Museo Civico di Storia Naturale Doria e Associazione Didattica Museale di Genova presentano Skeleton Night, una notte da brivido, sabato 17 ottobre 2015. Attività per bambini dai 6 ai 12 anni, dalle 20 e 30 di sabato alle ore 9 e 30 di domenica con pernotamente in museo, cena esclusa, colazione inclusa. Per informazioni e prenotazioni 334 80 53 212.